La piaggio in finale ha sempre rappresentato un punto di riferimento per un'attività lavorativa di un qualsiasi ragazzo, però forse con lo spirito anche che abbiamo da giovani di voler andare oltre i muri di casa propria, di uscire, quando ho terminato gli studi non mi sono posto il problema di entrare in piaggio nonostante fossi perito meccanico, ma poi parlando mi avevano prospettato l'opportunità di entrare in Olivetti e a questo punto ho detto ma sì potrebbe essere una buona esperienza anche se abbandonavo il sole e il mare per vedere qualche cosa di diverso, perché bene o male piaggio la si conosceva dai racconti degli amici o dei genitori di amici che ne parlavano mentre invece da qualcosa di nuovo mi attirava, come poi in un secondo periodo ho provato anche fare, ho fatto una domanda per lo Zambia Airline e poi anche per la sacca di Brindisi, poi però non hanno avuto evoluzione, nel 1970 sono entrato in piaggio e di lì ha cominciato la mia carriera che ho mantenuto per 38 anni. Mentre avevo in piedi la domanda per entrare in Olivetti, essendo orfano di guerra a dicembre nell'ufficio dell'ingegneria industriale si licenziava un dipendente che era orfano di guerra. Io essendo appartenente alla categoria orfani di guerra mi sono trovato che mi è arrivata una comunicazione dal Ministero dove io dal 1 gennaio sarei entrato, assunto in piaggio. Per cui trovandomi nella cosa di dover dire vado in piaggio, vado a Olivetti e ho detto ma intanto vado in piaggio e poi staremo a vedere come va la cosa. In piaggio poi sono rimasto. Io ho seguito la cosa in quanto finalesima e in quanto anche ex dipendente piaggio, perché mi dispiaceva, intanto mi è dispiaciuto da matti il fatto che la piaggio sia sostata in realtà di Albenga dove senz'altro ha favorito quell'area, però mi dispiaceva da matti per esempio quanto sentivo dire da diversi finalesi che una fabbrica in riva al mare è anacronistica e tutto, però se devo dire anche una cosa, in tanti anni che ho lavorato da piaggio, uscendo da lavorare ma poi anche gli altri giorni quando passavo lì davanti in orari di lavoro, non si è mai visto, innanzitutto la piaggio era una ditta che non inquinava, non produceva rumore e tra l'altro per esempio all'entrata l'uscita dei cancelli, mentre in certe aree si creano ingorghi eccetera, al finale sempre ha avuto un traffico abbastanza diluito, che si spostava, che non ha mai da creare del disagio, diciamo la piaggio nel tempo non ha mai dato fastidio ai finalesi, anzi i finalesi io penso che quando la piaggio si è spostata l'abbiano sentita, perché bene male anche per il poco indotto erano anche solo quei dipendenti che a mezzogiorno dopo la pausa pranzo, quelli di fuori, che andavano solo a prendersi il caffè, era già un indotto che portavano a finale, ma intanto finale era conosciuta, invece oggi purtroppo, mentre nel 1909 i sindaco di allora con altri nobili di finale hanno avuto la lungimiranza di dire portiamo un qualche cosa qua, a un certo punto noi ce la siamo vista, nel 2009 l'abbiamo vista andare via e quella è stata, almeno da finalese me ne dispiace e che tanti neanche ne abbiano capito l'importanza, perché per quello che si può fare con un pochino di trasformazione, di come era lo stabilimento lì di finale, si poteva senz'altro fare in loco e tra l'altro lì anche una parte che si presta, perché non è che sia una delle zone più belle di finale, ossia dalla parte sole o altro, quindi mentre per esempio parlando in realtà lì vicino a noi, Santa Corona, ha un fronte mare meraviglioso, però è un ospedale che in tanti ci invidiano, ma ce lo invidiano oltre che l'ospedale ce lo invidiano anche per le aree, finale lì dove c'è la piaggio è una zona un po' a ridosso della caprazoppa e tutto, quindi avrebbe potuto benissimo svilupparsi sul posto e migliorando quello che c'era. Tutti i vari progetti che ho seguito dal nascere, da cose faraoniche ad altre cose, adesso essendo crollato il mercato edilizio non ha sviluppo, io penso che se ci sarà qualche cosa, senz'altro sarà il fronte mare, dalla ferrovia a arrivare al mare, mentre a ridosso della ferrovia penso che sarà un'area un po' abbandonata a se stessa almeno, speriamo che non sia così, anzi che abbia uno sviluppo anche quell'area lì, anche se era stata pensata come polo scolastico, però per concentrargli un polo scolastico innanzitutto c'era da dire e chi paga. Secondariamente è anche che come area non è che si prestasse, poteva anche andare, però c'era la cosa di costruire su più piani e che a quanto poi ho imparato seguendolo un pochino, gli edifici scolastici non si possono sviluppare in altezza perché poi diventerebbero anche pericolosi e lì non ci sarebbe lo spazio per raccogliere tutto il comprensorio finalese. Addirittura si parlava di fare nella zona a monte della ferrovia, fare degli insediamenti artigianali tipo tappezzieri, tipo lavori un po', non il carrozziere che può fare anche rumore, ma lavori artigianali di non grosso impatto acustico ambientale, però anche quello chi fa? Perché lì senz'altro fronte mare è appetibile perché trova sempre i torinesi, i milanesi, chi arriva da fuori che la spende, però nel giro di 200 metri, un'abitazione di 50 metri in riva al mare vale 200 mila Euro, l'appartamento da 100 metri quadri a 500 metri dal mare vale 100 mila Euro. Speriamo che ci facciano qualche cosa, adesso dovrebbero incominciare, però sembra che voglia incominciare perché se no gli scadono i permessi per la società che ha in gestione tutta l'area, ma anzi speriamo, prima parto non meglio è, invece di avere dei ruderi abbandonati a se stessi potremmo avere un qualche cosa che invece serve.